Sabato scorso, 2 novembre, che cosa è successo? Sono stato svegliato da un'esplosione sotto la mia auto. Pierpaolo Spinazzè, in arte cibo, è abituato a tensione e ritorsioni. Appena due giorni fa era per strada a Verona a fare quello che fa sempre, coprire svastiche, croci celtiche, simboli d'odio, con i suoi murales ispirati a cibari e piatti. E per questo è finito nel mirino di chi quei simboli li lascia. Sabato scorso però qualcuno ha passato il segno. Sotto l'auto gli hanno fatto scoppiare una bomba a carta e lui è andato a denunciare tutto ai carabinieri. È soltanto l'ultimo di una serie di episodi. Ciao ragazzi, io sono Sergio, il vostro artista preferito. E benvenuti o bentornati qui su Artabout, nel canale dedicato al mondo dell'arte. Oggi, qui su Artabout, parleremo di Pierpaolo Spinazzè, conosciuto in tutta Italia e in tutta Europa con lo pseudonimo di cibo. Artista veronese da adozione che da circa 20 anni si immobilita nel ricoprire le svastiche e simboli d'odio in generale con la sua arte, rappresentando per appunto, come suggerisce il nome, varie pietanze. Un lavoro che comunque ci spiega essere partito da Verona, anche perché... Verona c'ha questo problema, infatti io posso lavorare a Verona per questo motivo, perché è pieno di fascisti. Ti... Il suo operato attivista, o meglio, artivista, è stato poi anche riportato da tutti i più grandi media e testate nazionali, Corriere, Repubblica, Vice, Rai3 e moltissimi altri. Facendosi notare così anche da importanti marchi della cucina italiana, come Gambero Rosso, guadagnandosi di conseguenza anche la stima di vari paesi esteri che gli hanno poi commissionato anche dei lavori piuttosto importanti, come per esempio il murale a tema ambientale in Slovenia o ancora quello realizzato in Francia per il Festival della Pittura. Tutte operazioni che gli permisero anche di apparire su varie testate straniere, come Al Jazeera, Euronews, Reuters e moltissime altre. Ha inoltre collaborato con brand molto importanti, come Red Bull, Caffè Borbone, Signor Vino e realizzato anche opere per volontariato per Croce Rossa Italiana o varie ONG come One Bridge Tuoi Domeni o ancora Mediterranea. Questi ultimi lavori, tuttavia, sempre a titolo gratuito, anche perché, secondo la filosofia dell'artista, bisogna cercare di aiutare anche chi vuole aiutare. E questo, secondo lui, potrebbe essere per appunto un mezzo che potrebbe facilitare certi atteggiamenti. Sempre per sua stessa filosofia, si rifiuta tuttavia di ricoprire sbasti che simbolidò di ingenerare al di fuori della sua Verona. E questo ovviamente non per disinteresse, ma per cercare invece di mobilitare la società ed ogni cittadino ad offrire il proprio contributo nella propria città. Cercando quindi di amplificare un senso di responsabilità di ognuno verso la propria terra. Ed è proprio qui, infatti, nella sua terra, che i suoi follower appartenenti alla sua città gli segnalano le varie svastiche presenti nel territorio, cosicché lui possa poi intervenire. All'interno del suo studio, infatti, Cibo si manifesta, diversamente da quello che potrebbe essere l'immaginario collettivo di un writer, con un metodo di archiviazione veramente maniacale ed organizzato. Ogni svastica della città segnalata viene infatti segnata con degli spigli cartografici in una cartina, dove poi viene realizzato un murales e ognuno di questi spigli viene addirittura suddiviso per colore per differenziarli tra i murales presenti in città, quelli danneggiati o quelli che addirittura non sono più presenti per via della demolizione dell'intero edificio. Sempre con lo stesso zelo, inoltre, gli articoli di giornali a lui dedicati vengono poi catalogati nella stessa maniera, così ogni bomboletta divisa per colore. Un impegno ed una dedizione che definirei quasi maniacale, che però, secondo l'artista, sono stati talvolta osteggiati da alcune forze politiche del territorio, con ideologie politiche simpatizzanti per la destra e l'estrema destra. Gli scontri, infatti, tra i vari sindaci del luogo e il writer, sono stati ricorsivi nel tempo. Prima dall'imposizione di una tassa imposta sui murales, con la motivazione di pubblicità sui prodotti. Poi ancora l'ordine di cancellazione di un murales è realizzato in una scuola elementare con l'accusa di imbrattamento, fatti poi riportati anche nei vari giornali durante gli anni e di denunce accumulatisi da vari esponenti di Lega e Fratelli d'Italia. Oltre alle varie intimidazioni e minacce anche di morte da parte di alcuni membri di Fortezza Europa, Forza Nuova, Casa Pound e forze di estrema destra in generale. Come purtroppo abbiamo già visto anche nell'intro del video. Insomma, non solo gente che lo ama, purtroppo. E peraltro, anche tra i suoi stessi follower, qualcuno, forse invidioso della sua notorietà raggiunta, lo accusa di essere egli stesso l'artefice delle sbastiche, solamente per poi ricoprirle e cercare poi un plauso sociale dalla società e amplificare di conseguenza la sua notorietà. Persone che poi sono state anche segnalate e denunciate dallo stesso artista, ma sulla stessa lunghezza d'onda anche Selvaggia Lucarelli. Giornalista nota molti per aver fatto emergere il caso Pandorogate di Chiara Ferragni, che avrebbe anche insinuato il dubbio sulla veridicità della notizia relativamente alla bomba carta, facendo riemergere anche dei post del 2016 pubblicati da Cibo con dei pensieri piuttosto divergenti rispetto a quelli attuali, quali successivamente l'artista realizzerà anche un video di scuse pubbliche in merito. Tutto questo però porterà alcuni a ricercare il perché delle operazioni Dev Writer, operazioni che però potrebbero essere spiegate benissimo da alcune righe riportate su Wikipedia, dove per appunto si legge che un gruppo di ultranazionalisti e neofascisti uccise un suo compagno d'università. E forse da qui direi che si possa comprendere anche il perché di certi metodi così maniacali e dell'insistenza verso certe battaglie. Io comunque sinceramente non ho voluto indagare sulla cosa chiedendogli dal vivo, anche perché la trovavo onestamente una cosa piuttosto indelicata. Inoltre spezzando una lancia a suo favore, sia stato veramente questo il movente del suo operato o semplicemente la ricerca di visibilità, direi che è inutile farne un processo alle intenzioni. Credo onestamente che sia sempre meglio trovare qualcuno che magari fa beneficenza e si se ne vanta, piuttosto che trovare qualcuno che critica tanto senza però donare nulla. Diverso ovviamente la mia opinione qualora fosse davvero lui a realizzare le svastiche, cosa di cui onestamente dubito fortemente, e peraltro ci sono anche delle cause in corso in merito a questa questione. Insomma, un personaggio che nel bene o nel male è riuscito a far parlare di sé, estremamente divisivo e su cui ovviamente ci sarebbe ancora molto altro da dire. Nell'intervista che state per guardare infatti parleremo anche di Yorit e la famosissima foto con Putin, dei simboli fascisti e neonazisti, o ancora del murales più grande mai realizzato in Veneto. Tutto questo è moltissimo, altro ancora solo qui su Artabout, quindi mettetevi comodi. Stiamo per iniziare. Cari amici di Artabout, benvenuti e bentornati qui nel canale dedicato al mondo dell'arte. Eccoci oggi qui presenti con un ospite davvero speciale, conosciuto con lo pseudonimo di cibo. Ciao! Eccolo qui Pierpaolo Spinazzè. Benvenuto su Artabout, Pierpaolo. Benvenuti a voi perché siamo nel mio atelier, perciò oggi vi ho accolto a vedere un po' dove nascono un po' le idee, e da qui parto per andare a disegnare fuori. Grazie per aver accettato l'invito su Artabout. Senti, partendo proprio dal tuo nome, no? Cibo. Non tutti sanno che in realtà prima utilizzavi in passato altri pseudonimi. Beh, tanti artisti hanno tante firme, come tanti musicisti hanno diversi gruppi musicali, perché comunque conosco musicisti che fanno tranquillamente jazz, metal e punk, e perciò alla fine sono sempre loro, perché magari riconosci sempre lo stile, tuttavia cambia il genere musicale. Tuttora ho diverse firme, ne ho alcune che magari sono pensate più per disegni di gruppo, in team di persone come scuole, o l'ho fatto dei lavori nelle carceri, o comunque dei lavori pensati proprio per essere educativi, e comunque a persone che anche non sanno disegnare, però comunque possono partecipare ai lavori in strada. Poi da giovane ho fatto tanti murales che erano dei robot biomeccanici con inserimenti strani, con rocce, cristalli, cose strane, che però magari lo faccio ancora, ma di domenica. Non ne faccio più tantissimi, ma insomma continuo magari a tenere aperte le varie firme, insomma. E quindi parallelamente con, oltre a cibo, tu porti avanti questi alter ego, possiamo dire così? Sono diverse firme. Sono diverse firme. Diversi personaggi, magari non hanno cibo, ha magari il cappello, la salopette, è un personaggio che magari usa anche parlando degli aggettivi cibeschi. Poi mi sforzo ad avere sempre il sorriso, è sempre positivo, insomma. Per esempio non pubblico mai cose negative, o comunque cerco di non dare cattive notizie, ma sempre la notizia buona. Cioè nel senso, non mi lamento sui social, mi hanno rovinato i murales, ma guardate ho sistemato i murales, che mi avevano rovinato. Perciò si cerca di riempire i social con cose buone. Ti invito da questo punto di vista, perché io non sono proprio una persona propositiva. Cioè non mi definisco pessimista, però non riesco ad avere questa visione, insomma, del quotidiano. Per esempio... Una forma di difesa anche. Una forma di difesa. Perché comunque, non essendo mai cattivo, non passando mai alle vie di fatto... Cosa intendi, scusa? Io so benissimo che i murales verranno rovinati. Potrei benissimo aspettare le persone che me le rovinano, di persona, di notte, come loro, insieme ad altre persone, ma non lo faccio. Perché non voglio, perché sarebbe sbagliato. Perché comunque, per me è più importante parlare alle persone, agli indecisi, che nella mia città approvano magari certi tipi di comportamenti. Io non vado a cercare di convincere loro, i rivoluzionari, i fascisti, ma cerco di far vedere alle persone normali che i fascisti non sono delle persone che magari difendono la patria, sono buone persone, ma, al contrario, sono delle persone violente, sono delle persone con cui non bisognerebbe avere nulla che spartire 80 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Verona c'ha questo problema, infatti io posso lavorare a Verona per questo motivo, perché è pieno di fascisti. È un prodotto IGP, è un prodotto DOC, e qui ha avuto massima espansione, diciamo, trovi anche diverse crew, come inteso, come nel vino, diversi territori vocati a quel tipo di fede, fede tra virgolette ovviamente, ed è interessante da un punto di vista accademico, se uno deve fare ricerca, dal punto di vista antropologico, perché comunque a Verona trovi tutti i tipi di linguaggio di estrema destra, tutte le rune, tutti i simboli, tutto quanto, quello che è l'iconografia dell'estrema destra, oggi, il neofascismo, il neonazismo, e qua le trovi un po' tutte, se un semiotico dovesse fare un'indagine... C'è l'imbarazzo della scelta? Sì, io ci dico sopra, però è estremamente grave, perché comunque, se tu lo guardi appunto dal punto di vista dei messaggi, della semiottica, dal punto di vista proprio delle persone, anche della società, che ci siano gruppi di persone così organizzati, con soldi, risorse, persone, locali, immobili, anche se combini un reato, hai garantito la fuga, perché come è successo con l'assassino Tomasoli, queste persone sono state mandate in Inghilterra, dove sapevano che non potevano essere estradate, e di conseguenza, queste persone, che all'apparenza sembra dei ragazzini, che hanno questa passione per il duce, fanno parte di organizzazioni molto complesse, con risorse, e con metodo. Io lo vedo sempre, perché comunque è successo più di una volta, che rovinassero tanti murales in tanti paesi, e nella stessa maniera. Qualcuno ha detto come fare a queste persone, e da Legnaro fino a Verona 30 murales sono stati rovinati tutti assieme. Questo è un messaggio che queste organizzazioni danno, cercano di dare a me per intimorirmi, come per dire guarda siamo tanti, siamo forti, possiamo fare quello che vogliamo. È successa la bomba carta sotto casa, e anche queste sono tutte cose che sono cose negative, estremamente negative. Fortunatamente nessuno si è mai fatto male, per merito mio, però comunque vanno segnate, vanno censite. Un po' come diciamo la camorra che gestisce il piccolo spacciatore, allo stessa maniera, dice che è similare. Perché c'è il politico che è il papavolo. E qui vorrei toccare, scusami se ti interrompo, cioè quindi tu pensi che queste cose qua possono avere qualche connessione con dei partiti politici? Sì, sì, ma c'è la certezza, c'è la certezza, c'ha scritto libri su queste cose, cioè si vantano anche gli stessi politici, si vantano di avere il busto del doccio a casa, di andare alla tomba di Mussolini, si vantano loro, non devo dirlo io queste cose. Tuttavia, nel mio lavoro che ormai è 28 anni. Da 28 anni hai iniziato con cibo? No, cibo meno dal 2005. 2005? Però da 28 anni che sono in strada comunque i miei polli li conosco. Succede che c'è il papavero che è il politico che siede magari anche nel consiglio comunale che dà ordine e a cascata questi ragazzetti che magari sono tutte persone che magari o hanno avuto un lutto in famiglia tipo la mamma gli era morta di tumore oppure la mamma era la prostituta dei marocchini che fanno la stagione per le fragole nei campi. Tutte situazioni di un disagio incredibile e queste persone che si sentono inconsciamente private della famiglia cercano nell'estrema destra una famiglia più grande che possa dargli più sicurezza. Perché? Io ricostruisco tutto perché dopo io so che quelle persone lì fanno capo a Fortezza Europa che fanno capo a Casa Pound e di conseguenza dopo so qual è il politico che ha mandato queste persone. Succede che il politico per esempio fa un post contro di me perché magari l'ho querelato per diffamazione o queste cose qua oppure lui si indigna che sono andato a cancellargli le svastiche nel suo paese sta sicuro che dopo qualche giorno due, tre, dieci murales miei sono rovinati perché anche solo inconsciamente il cittadino si sente autorizzato se il suo politico dice che cibo è una merda si sente autorizzato ad andare a fare queste cose cioè il politico non dovrebbe mai assolutamente fare questi messaggi qua perché comunque oltretutto io sono incensurato cioè tu non puoi giudicarmi attaccarmi se non ho fatto niente cioè io sono incensurato qualsiasi giudice mi ha solto e di conseguenza dopo se tu dici delle stupidate succede che io ti querelo perché comunque il senso anche di metterci la faccia è che io posso rispondere ai tuoi attacchi ho proprietà intellettuale sui miei prodotti sui miei disegni sui miei lavori posso andare in tribunale posso cosa che Banksy per esempio non può fare volutamente sono due forme di difesa diversa lui si nasconde io mi mostro essendo a Verona metterci la faccia è importante metterci il coraggio che i fascisti non hanno era decisivo perché gli facevi vedere che non avevi paura e questo glielo fai anche i politici loro credono di avermi di avere a che fare con un ragazzetto che fa i disegni sui muri però io colleziono denunce archiviate assoluzioni anche di parlamentari di Roma consiglieri comunali sindaci Roma è la capitale anche parlamentari della Lega i parlamentari fratelli Italia tutte persone che finiscono nel muro che non vi mostrerò perché è mio dove tutte queste persone che perdono contro cibo le attacco lì e quando sono triste vado giù mi vedo sta scarica di fascisti che hanno cercato di attaccarmi e hanno perso tutti c'ho pacchi di buste verdi di quarelle queste cose qua e questo è il prezzo a pagare beh vivendo a Verona come te comprendo benissimo le realtà che stai descrivendo poi insomma anche il mio colore mi fa percepire in maniera diciamo anche più enfatica certe dinamiche purtroppo e quindi non posso non condividere i tuoi pensieri però ovviamente le voglio lasciare parlare te però anche se chiaramente appoggio come molti fortunatamente il tuo attivismo anzi è stato cognato anche un termine non so se hai sentito parlare di artivismo no ma che divertente è bellissima è cibesco anzi senso cibico senso cibico il tuo lavoro però per quanto nobile si muove ai confini forse della legalità certo giusto siamo in Italia barely legal il mio avvocato che io ringrazio sempre poi è un santuomo è pro bono perché anche per lui è ricerca non è normata la street art in Italia è 639 codice penale è penale proprio certo potrei farmi galera io quindi reclusione per aver coperto delle svastiche potenzialmente potenzialmente è lo stesso crimine a cui verrebbe dato al nazista che fa la svastica potenzialmente tuttavia il tribunale non è gestito dall'intelligenza artificiale ma è gestito da persone a cui ci parli e le persone capiscono l'intento e di conseguenza viene sempre archiviata ovviamente il sindaco di turno fa ricorso archiviato ricorso archiviato fanno ricorso per che cosa? per aver ricoperto la svastica non fanno invece una denuncia sulla svastica? infatti senza contare il fatto che con impegno civico come il mio se fossi in Francia o in Germania probabilmente avrai già la medaglia di valore civile qua no perché appunto il sindaco ti denuncia per aver coperto lo svastica perché qua viene visto quasi come un disvalore diciamo così sì allora lui deve far felici i suoi amici e di conseguenza queste cose qua è un segnale che viene mandato sono dei vostri colpite pure cibo l'ho colpito anch'io questo è il segnale che vuole dare il sindaco che quando ti denuncia per questa cosa qua tuttavia che stai dicendo? no appunto le percussioni legali perché apro una piccola parentesi quando frequentavo il liceo artistico per chi non lo sapesse io e Cibo abbiamo frequentato lo stesso liceo chiaramente in anni differenti certo c'erano i bagni divisi nel tempo erano uniti i bagni con il sex e non sapevo non conoscevo ancora la tua figura però io mi muovevo similarmente al al tuo attivismo o artivismo perché adesso si usa questo termine che a me piace un sacco artivismo è fantastico dove all'interno della scuola c'erano un sacco di rappresentazioni di scritte volgari disegni fallici e io le ricoprivo con una tag che mi facevo chiamare Anonimo 94 vabbè così per camuffarmi dopo due giorni sono stato scoperto però vabbè comunque mi firmavo Anonimo 94 e ricoprivo i disegni fallici con le statue greche così e mi sentivo molto anonimo invece poi dopo scoperto che tutti quanti a scuola sapevano che ero io però siccome i disegni piacevano me li lasciavano fare semplicemente però mi sono appunto domandato un contesto diciamo scolastico dove le ripercussioni sono comunque circuite a quello che è il contesto scolastico il crimine è lo stesso però il crimine il crimine però sarebbe lo stesso ma io notai che nella mia situazione molto più marginale rispetto alla tua che accadeva che però molti ragazzi si sentivano in diritto di arrogarsi il diritto magari di sfregiare così come lui si prende la libertà di farlo senza permesso di disegnare senza permesso anche io posso disegnare quello che voglio senza il permesso ma dove? sopra le tue robe? sopra le mie robe ma non solo cioè in generale sui muri e quindi lì appunto sono nate delle dinamiche tali per cui io poi ho smesso di fare questa cosa ho iniziato nel 2013 poi verso il 2015 ho scoperto appunto il tuo nome e ho visto che peraltro hai realizzato un'opera proprio davanti alla nostra scuola è evidente? c'è un formaggio sotto nel pancheggio? ah ormai non freguo non lo so però ho visto lì quella è molto bella e collegandomi appunto quella era su era un'opera sui migranti sì quello lì perché dopo lì davanti liceo artistico essendo che giù c'è il fermi cosa c'è? sì fermi c'è una scuola tecnica dove ci vanno tanti fascisti passano davanti liceo artistico e di conseguenza quel muro lì davanti è martoriato quando andavo io all'iceo artistico ci pensavamo noi adesso inspiegabilmente i ragazzi si è ammosciato lo scroto e non lo fanno più a me da estremamente fastidio andare davanti liceo artistico a cancellare le scritte dei fascisti perché dovrebbero farlo loro perché il vero senso di essere sui social non è quello dei like che a me non mi farà proprio niente neanche dei follower perché non è che mi danno un euro per ogni follower magari ma è quello di ma è quello di condividere le informazioni perché l'informazione è l'unica risorsa che se condivisa non viene persa di conseguenza tu puoi acquisire il mio know-how per fare delle cose magari col tuo stile però magari capendo come la fate cibo tipo il metodo per dire io arrivo metto giù i pilottini quelli dei lavori stradali ah ok metto il cartello attenzione vernici mi metto la maschera mi metto comodo metto la musica talmente in vista che nessuno pensa che è illegale perché il posto più buio è sotto la candela e di conseguenza alla fine è un metodo che altri artisti potrebbero farlo sta cosa e voi che siete artistico scendete e andate a disegnare sul muro davanti a casa vostra visto che vi hanno mancato di rispetto a me anni finiva a pacche però sbagliato e tuttavia tu che sei artista dovresti rispondere la tua arte io ero andato là a fare diverse cose tipo i cupcake le patate le ho fatte una valanga quello che ha avuto più successo di tutti che gli ha fatto esplodere il cervello è quello del salvagente ciambella praticamente i fascisti avevano scritto ai caduti lo promettiamo ogni antifascista preso lo massacriamo io ho fatto ogni ai cosa che era lo cerchiamo poi metterò comunque l'immagine comunque io le cerco nel frattempo mettete qua in solo praticamente gli ho cambiato due parole e il senso da estremamente violento è diventato inclusivo questa roba qua gli ha fatto esplodere il cervello ai fascisti perché loro non potranno mai e poi mai vincere in cultura e in creatività e di conseguenza andando a cambiare due parole del loro slogan e la celtica facendolo diventare una ciambella che era un salvagente che doveva stare nel tema cibo gli ha fatto proprio esplorare il cervello tanto che hanno rinunciato al loro simbolo perché la parte interessante di tutto questo lavoro che sto facendo io è che loro stessi rinunciano al potere che dicono di avere perché se tu rivoluzionario non firmi più il tuo attacco se non rivendichi il tuo attacco tu non vali niente se tu rivoluzionario sei in strada che dici che la strada è tua non firmi la cosa che hai fatto per me sei un quacquaraquà sei il peggio dei pivelli perché comunque tu devi sempre metterci la faccia quantomeno la firma il fatto che tu vieni a cancellare che dopo è stato rovinato ma non hanno firmato e questa è la peggior sconfitta secondo me perché comunque sono dei coglioni qui infatti leggiamo l'ho trovato ai caduti la scritta iniziale di spregio che era stata fatta era ai caduti lo promettiamo ogni antifascista preso lo massacriamo con il simbolo poi della croce celtica poi Cibo è intervenuto scrivendo ai caduti lo promettiamo ogni migrante preso lo accogliamo e la croce celtica è diventata poi un simbolo di salvataggio una ciambella chiaramente in stile Cibo è fantastico questa cosa qua ha avuto un bel giro perché comunque è stata condivisa parecchio perché comunque hai trovato l'idea giusta che è arrivata giusta proprio era il periodo anche che c'erano stati alcuni hai fatto un boomerang proprio ogni volta che la pubblico sono 20.000 like almeno e condivisione a non finire piace proprio come concetto è piaciuta tal punto che mi hanno chiamato a farla su una nave di soccorso mamma mia è praticamente la nave Ionio di Mediterranea che mi hanno chiamato e ho fatto i container bellissima adesso i miei i miei i miei ciambelle sono in giro per il Mediterraneo che sono che saranno l'accoglienza a naufraghi perciò sarà una delle prime robe che vedranno sono le ciambelle benvenuti proprio bellissima adesso non so se hai mai fatto viaggi in nave però comunque il mare di notte su una nave piccola è proprio brutto nel senso chiunque conosce una situazione del genere ti aiuta come anche se vedi la situazione del deserto del Sahel così tu per forza regali acqua a chi ha sete cioè non esiste che non sei solidale e tutte queste persone che parlano è perché sono comode nel loro giardinetto e hanno paura che gli portino via chissà che mentre se tu sei una persona che lavora in mare un isolano comunque una persona che ha contatto con le persone che le conosce che vuole conoscere questa curiosa attenzione insomma sei più portato ad essere solidale con gli altri questo progetto ha funzionato proprio perché dal muro siamo passati alla nave e l'idea è stata condivisa molto e in più i fascisti si sono presi un bel panino pieno di merda se lo sono mangiato tutto perché comunque questa è una stecca che non è differente morale proprio schiaffi morali davanti a tutti quello deve essere veramente una cosa che ti dà anche grande gratificazione vedere non solo che comunque ti sei stato riconosciuto forse anche indirettamente un senso nobile verso il tuo operato poi anche vedere in qualche modo la tua opera d'arte che poi che gira sono il cover è il cover dei miei murales questo non lo sapevo c'è un ragazzino a Roma ragazzino ormai sono anche cresciuto che fa le mie stesse cose però le firma Food come se fosse un gruppo cover e anche lui non c'è la scritta d'odio perciò è un complimento queste cose mi fa piacere non mi fa piacere quando rubano le idee tipo i locali che prendono le foto dei miei murales e li stampano sulle vetrine sì ma qua a Verona quindi Belgrado oppure che magari fanno ma tu hai diritto d'autore nelle tue opere no? fuori dall'Unione Europea Belgrado è più difficile per il mio avvocato venire ad avere un team un po' più gustoso a proposito con l'avvocato mi riallaccio perché comunque lavorare pro bono non è una cosa che tutti fanno allora lui si è trovato delle sbastiche sul muro di casa è uscito ma cosa stai facendo? sto cancellando aveva paura che stessi facendo qualcosa? no no perché sua moglie era in classe mia all'elementare e però non ti conosceva ancora? no perché lui veniva da da Bobolone da un altro paese perciò non mi conosceva cioè sua moglie mi conosceva però però diciamolo mi ha trovato mi ha detto guarda se hai bisogno eccomi qua dai bellissimo è stata una specie di baratto che negli anni continua a funzionare dopo se ci sono le spese gli do una mano ovviamente dopo quando mi regalano le cose a me anche a lui gli arrivano delle cose tipo le capi perché magari i miei clienti mi regalino cosa da bere cosa da mangiare e perciò magari gliele allungo quella volta che andavi al dottore con le uova tanto alla fine vinco sempre per lui gli altri la media ho sempre vinto con lui perciò lui può dire ho vinto un sacco di caccia ho sempre vinto con cibo che bello perché poi alla fine fa ricerca anche lui essendo non normata la legge in Italia ma io scusa se ti correggo apro una parentesi ma hai detto legge 639 639 ma è la stessa il cui recentemente appunto alcuni attivisti è la stessa sì ma non è stata ah quindi di recente è diventata penale prima non lo era no è sempre stata penale però allora c'è stata c'è stata ma loro sì eh infatti perché io questa cosa un po' mi è dispiaciuta perché beh no perché non è il modo corretto di protestare quello lì no ci sono infiniti modi quello lì non si fa perché gli hanno dato la colpa e a me no a quale azione però ti riferisci beh a sporcare i monumenti a sporcare le opere d'arte e a fare tutte quelle bambinate che farebbe mio figlio però sai che spezzo una lancia a favore di questi attivisti perché ho avuto un modo di parlare che quando rovinano le opere cioè non vengono veramente deteriorate perché loro per esempio buttano ma c'è il modo ma il problema lo risolvi te lo dico io no attiri l'attenzione eh allora come i bambini mentre io posso dire che ho cancellato centinaia di celtiche svastiche e il problema per quanto poco l'ho risolto perché comunque è un dato di fatto tu cosa stai facendo faresti più attenzione andare a pulire i fossi prendere tutta l'immondizia buttagliela davanti al Parlamento però tanto l'immondizia l'è raccolta cioè lì è è facile indignarsi sui social è facile mettere un like è facile dire ah bravi ah si ha ragione però sti qua adesso cosa hanno penale felina penale per tutta faccio tu certi tipi di lavoro non li farai mai soldi da pagare avvocato figura di merda cioè mentre io ho vinto sempre ho risolto un problema la gente è felice cioè non è il metodo non si fa così ci sono infiniti ma io la causa la sposo perché comunque sono attivista anch'io a livello ambientale nel tempo libero raccolgo mondizie ho fatto una valanga di murale per sensibilizzare sulle microplastiche anche andando nel tema più su più nel dettaglio e non vivo al pianeta però non è quello il modo cioè non si fa così fai la figura di merda e la gente si allontana e perciò chi poteva essere il tuo alleato si allontana mentre al contrario quello che faccio io magari la gente non capisce esattamente i valori dell'antifascismo però tutte le signore di paese capiranno che non si rovinano i murales di cibo perché i fascisti ce l'hanno con il formaggio dicono è un piccolo percorso però alla fine puoi parlare di concetti profondi come l'antifascismo a persone che non gliene frega niente che magari non lo capiranno mai però capiscono il valore del mio impegno del mio lavoro mentre questi cosa stanno facendo? si incollono sulle strada ma ti sembra? cioè è questo il modo beh relativamente ai blocchi stradali anch'io sono contrario ma puoi farli ma un metodo un po' più interessante portagli le immondizie in mezzo all'autostrada non lo so ma non ho incollati per terra è veramente puerile e secondo me se c'è bisogno di un livello un po' più alto tipo anche i miei nemici i fascisti sono dei coglioni è un livello veramente basso io vorrei tanto avere dei nemici un po' più di qualità che alzano il livello che così anch'io possa evolvermi peggio par brutto par brutto però se sei un rivoluzionario mi sembra che quello che ti è successo sia già un livello abbastanza alto sì però a livello professionale se ci pensi sono sempre le solite dinamiche non c'è un'evoluzione da parte loro uno studio adesso per spezzare una lancia a loro favore perché comunque ogni movimento così che ha tutta questa energia tutti questi accoliti ha dei valori positivi in cui ci si potrebbe anche incontrare perché per quanto riguarda il patriotismo la tradizione l'italianità il tricolore sono cose che dovremmo essere d'accordo con l'estramadestra cioè non dovrebbe dare fastidio che ti disegni il pandoro che è il dolce della tua città non mi scrivi sopra cibo a cibo lì è un attacco personale ma allora lo capisci che il tuo livello di rivolta non è adeguato al mio capisci che vincerò sempre perché comunque la gente lo capisce che tu hai rovinato il cibo della tua città che non sei il rivoluzionario che pensi di essa sei solo un ragazzino annoiato apro una parentesi in merito perché molte persone qui a Verona purtroppo anche gente che ho conosciuto dal vivo dicono sempre questa frase però il duce ha fatto anche cose buone ti credo vent'anni di dittatura vuoi non fare cose buone anche io in vent'anni di dittatura a forza di fare cose ne faccio una di buona vent'anni di dittatura è tanto è ovvio che fai cose buone per forza ma poi erano anni in cui certe riforme dovevano essere fatte dovevano essere fatte le riforme pensionistiche dovevano essere fatte erano cose di quei tempi lì che la società novecentesca dell'inizio del novecento aveva bisogno perché altri stati lo facevano insomma perciò comunque si ha fatto anche robe buone per forza poi anche tipo tutta l'architettura fascista latina le ruts queste robe qua insomma non è brutto tutto non dobbiamo abbattere le cose non dobbiamo distruggere le cose io capisco togliere magari il fascio di dittorio dall'edificio però l'edificio rimane magari perché comunque l'architetto aveva fatto determinati lavori che era interessante insomma per vent'anni di dittatura ne fai le robe buone dai anche comunque vincono le cose brutte delle buone però è normale che una dittatura faccia le cose buone insomma non ha opposizione decido faccio una strada fatta faccio le bonifiche fatto decido io punto per quello facile sì effettivamente ecco ascoltate le risposte di cibo così almeno avrei voluto sapere rispondere anch'io questo però non mi è venuto mai in mente quando mi dicono queste cose qua effettivamente se ci pensi cavolo non avere opposizioni in parlamento e poi una qualsiasi decisione viene applicata dopo di queste decisioni che prendi alcune saranno buone sicure dopo c'è da dire per esempio a Verona che tanti ricordano il fascismo perché che l'hanno vissuto con gli occhi che l'hanno vissuto con gli occhi dei nonni e di conseguenza non c'è quell'attenzione storica ma c'è quell'attenzione di nostalgica perciò non è non è un'idea corretta che si fanno non c'è stato quel percorso che altri popoli come in Germania hanno fatto tu non ti metti a fare battute Hitler ha fatto anche cose buone in Germania cioè non le fai queste battute e di conseguenza e di conseguenza c'è proprio questa mancanza di un percorso sociale di tutta Italia ma specialmente a Verona perché a Verona proprio non si è capita sta cosa molti di miei follower mi dicono questa cosa qua ma scusa ma perché se questa operazione che fa lui è illegale anche se la condivido perché non chiede permesso al comune io penso che tu io penso che tu l'abbia già fatto sono in causa col comune perché praticamente io ho regalato un murale ai bambini in un muro degradato dove anche il giudice poi mi ha assolto e il sindaco mi ha denunciato per aver regalato frutta e verdura dei bambini a rientro dalle scuole dopo il covid con quale accusa cioè non ho capito un brattamento tuttavia ha fatto ricorso ha perso ancora il sindaco perché comunque l'ha fatto cancellare prima dell'inizio delle scuole c'erano i bambini in lacrime perché mi avevano aiutato i bambini a fare il murale perché l'ho fatto assieme ai bambini poco prima che iniziasse le scuole dopo il covid tutto documentato trovo le foto si trovi 10 minuti di video con tutti i nomi del dirigente della polizia del sindaco di tutti i nomi che hanno di tutta la catena gerarchica che ha portato alla cancellazione di questa roba qua io adesso sono in causa con il sindaco che tra l'altro ha il comune perché lui si fa pagare per benunciare cibo perché regala i murali ai bambini è pericoloso sarebbe un'ottima domanda per l'opposizione chi è che paga lo studio del sindaco per denunciare cibo che regala murale ai bambini e questa è un'ottima domanda ma non credo che l'opposizione abbia tutto questo polso sono in causa per diffamazione perché lui praticamente ha fornito ai giornalisti delle informazioni false per far sì che non sembrasse che io che la cosa fosse finita che lui ha perso praticamente ha fatto fare all'arena un articolo falso diffamatorio nei miei confronti sono in causa sia con l'arena che con la giornalista che ha scritto questa cosa qua ma diffamatorio perché ha scritto delle falsità si ha scritto delle falsità che ha denigrato delle falsità che io mi ritengo estremamente offeso perché comunque io con i sindaci di Fratelli d'Italia e della Lega non lavorerò mai perché loro tra le loro fila hanno estremisti di destra ma quindi a quanto li sale se fosse questa cosa qua anni che va avanti anni adesso magari finirà durante le votazioni e perciò io spero per qua gliele farò sapere il bello di metterci la faccia è che dopo rilascio conferenza stampa perciò dico il sindaco ha perso e viene fuori in articolo e il sindaco mi ha diffamato e ha perso e mi ha dato questi soldi perché dopo è questo che si parla però dopo cerco di accanirmi su di loro in questa maniera perché se fai il superbo e ti trovi davanti la persona che non va bene la verona si dice quel del formaio dopo va a finire male perché comunque ti paghi le tue spese processuali paghi le mie se mi sento offeso mi paghi anche il risarcimento e questo con quali soldi? con quelli del comune? va bene questo atteggiamento cioè è abuso di potere o sbaglio? perché comunque è personale la faccenda è personale nei miei confronti perché cancello celtica e svastica nel suo comune? perché lui qui all'interno della sua compagine c'è persone che si fanno fotografare con gente che sono dei neonazisti è stata una volta risolta in consiglio comunale perché il consiglio comunale è la sala di tutti i cittadini anch'io sono andato a sentire un consiglio comunale mi sono trovato nove fasciste che mi aspettavano tutti in fida in squadra e tu eri da solo? no erano con i carabinieri certo cioè scusami perché comunque non si fa un comportamento del genere e lì dopo c'era il stoppato della Lega che era lì a farsi bello con sti neofascisti di fortezza Europa e a me sti comportamenti qua non van bene nel resto del mondo un politico che fa sti comportamenti qua si dimette subito ma subito e se ne va alla velocità della luce non si fa più rivedere solo che in Italia con la scusa del non si può più dire niente dicono le peggio cose e combinano le peggio porcate e queste persone qua rappresentano tutti nel consiglio comunale persone che equiparano la Shoah al diritto di aborto cioè milioni di ebrei morti sono uguali al diritto di aborto che ha ogni donna cioè io quando sento queste robe guardo io queste persone qua non le vorrei proprio vedere in politica dovrebbero andare a casa e a fare dell'altro perché potrebbero partecipare alla vita civica con l'associazionismo con altre forme di volontariato però tu non puoi rappresentare tutti i cittadini tu non puoi rappresentare me perché comunque metti caso che una famiglia abbia avuto questa esperienza dell'aborto cioè tu questa persona qua la vorresti vedere in comune che dice ste robe cioè sono temi anche delicati e poi loro si permettono di dire le peggio cose e non si dimettono e vengono rieletti è un problema irrisolvibile perché proprio non c'è non c'è trasporto da parte delle persone se ne fregano ecco e notando tutta sono temi seri io ci metto un sorriso ognuno di questi temi qua potrebbe gettare con uno sconforto perché comunque se li guardi proprio con la visione da un punto di vista esterno di una persona che magari ha viaggiato ha visto anche l'estero ha visto come si comportano altri popoli di fronte ai medesimi problemi perché sono gli stessi problemi in tutto il mondo perché dici che comunque fuori dall'Italia in Europa comunque c'è un modo di affrontare la situazione differente rispetto la seconda carica dello stato italiano ha i busti del duce in salotto tu puoi immaginarti la seconda carica il cancelliere la russa il cancelliere della Germania con i busti di Hitler tu immagina uno scenario così non può essere possibile io non mi intendo molto di politica ma il secondo è la russa sì perciò se succedesse Dio ce ne scampi qualcosa a Sergio sarebbe un fascista a rappresentare gli italiani anche durante magari la commemorazione delle forze adattine durante il giorno della memoria e tutte queste cose qua abbiamo digredito un po' dalla parentesi quella si è vero divertiamoci alla fine faccio cose divertenti io era quel murales gigantesco proprio si è vero allora beh quello più grande di tutti è quello là di 1100 metri 1100 metri quanto ci hai messo ci ho messo mesi mesi ma la fortuna è che essendo vicino a casa potevo andarci tra un lavoro e l'altro perché loro hanno la struttura elevatrice la piattaforma elevatrice di proprietà non devono noleggiarla e di conseguenza io potevo andare quando volevo tra un lavoro e l'altro andavo lì su mesi bellissimo e se si può chiedere ma quanto costa un lavoro perché comunque ho potuto fare quello che volevo io disegnare quello che volevo io praticamente metterci quanto tempo volevo 1100 metri quadri se fai il preventivo che fanno i miei colleghi che spenano il comune 80 euro metro quadro saremmo fuori è fuori prezzo nessuno un'idea non c'è tanto anche lì in quel caso lì per dirti l'ICA che è in poste comunali affini che fa capo al comune che ha sede qua a San Giovanni dove il sindaco mi ha denunciato voleva 88 mila euro all'anno di pubblicità per quel murales perché secondo loro l'azienda che c'era dentro al capannone si faceva pubblicità con un'opera d'arte e volevano 88 mila euro di pubblicità all'anno ovviamente l'avvocato ha fatto spogliare tutto però il politico ci prova a far paura ai miei clienti in questa maniera chiedendo le tasse pubblicitarie il cliente ma pubblicità dico non ho capito in che senso pubblicità secondo loro il murales attiva l'attenzione sui loro prodotti e allora deve per forza rientrare all'interno di pubblicità come se fosse il logo e loro dicono guarda paghiamo già migliaia di euro di logo non ti paghiamo questo però il negoziante piccolo prende paura della sanzione e cancella il murales cioè il politico fa mandare ste lettere per intiburire i miei clienti che è una cosa similare se non è il roletto che ti è accaduto anche per opere minori diciamo così per la pizza sì sì anche lì se l'è messa via cioè nel senso che comunque a parte che quel murales è scomparso adesso non c'è più non c'è più per la 110 la legge è quella su gli immobili che c'è stata che potevi rinnovare il cappotto del tuo immobile per roba ecologica per riscaldamento globale queste cose qua e di conseguenza tanti privati sono stati stimolati a rifare la casa e io ho perso 3-4 murales così ma non è che mi dispiace comunque è una forma d'arte che ci sta che non ci sia più però ho avuto diverse storie con il murales perché comunque il vica voleva migliaia di euro di pubblicità e un pizzaiolo cosa dice cancello tutto non è che si impunta come fa cibo che va in tribunale e dice no non puoi mancarmi di rispetto se la mia opera d'arte viene vista come pubblicità a me non va assolutamente bene io non sono un grafico non sono un artigiano io sono un artista e perciò tu mi devi portare rispetto come tale se tu mi fai pagare le tasse pubblicitarie su ogni opera d'arte tu sminuisci ogni opera d'arte ed è grave e di conseguenza io in tribunale ci vado e mi faccio volere in ogni sede anche perché comunque è la fortuna che sono abbastanza conosciuto e di conseguenza è un'opera d'arte non è la marchetta non è mai la marchetta che fai ecco vedi i vari problemi perché dopo alla fine sono tutti tanti problemi che comunque sui social non ne parli perché non puoi annoiare le persone con queste cose tecniche serie denunce archiviazioni però sono tutte rogne che mi devo portare avanti e sempre questo riso infatti è mirabile io non so come ce la fai perché comunque mi sentirei probabilmente perché vinco ogni volta è quello il punto più me ne danno più io vinco cioè aver vinto contro i parlamentari di Roma che questi hanno dovuto pagare 4.000 euro di spese legali scalati dai 49 milioni di euro alla fine sono tutte gioie ma sono gioie cioè c'è gente che colleziona le foto dei calciatori o c'è le foto dei politici dei politici e delle denunce ma è incredibile vederti con tale entusiasmo anche dopo dei fatti molto gravi che ti sono accaduti come per esempio quello della della bomba carta allora sono complimenti vuol dire che sto lavorando bene beh certo però sto lavorando molto bene se mi fai una roba del genere però ovviamente è un atto grave perché comunque se mio vicino magari moriva di infarto devo sentirmi in colpa e io perché ho questo impegno civico e ricevo degli attentati sotto casa poi un'altra domanda interessante perché la sera dell'attentato le telecamere del comune erano spente? mamma mia cioè non si è fatto male nessuno perché te lo ripeto non sono dei rivoluzionari degli anni 80 non sono delle persone pericolose di per sé perché sono stupide più che altro più che pericolose e tuttavia l'intento poteva portare delle gravissime conseguenze perché va a fuoco questo va a fuoco la casa non lo so cioè ti puoi permettere questo atteggiamento cioè e dopo tutto questo è stato archiviato perché ovviamente i carabinieri non sapendo chi cazzo sono questi perché sono scappati le telecamere erano spente e dopo un fatto del genere tu non potresti richiedere una scorta? ma chiesto quelli della Digos se avevo bisogno non pensi che sarebbe no perché intanto quello che faccio io sono tutti i dati penali mi metto a fare imbrattamento con la scorta dietro cosa mi dicono la scorta? ogni volta che esco ho un reato penale perché non sono autorizzato a cancellare le robe lo faccio e basta e cosa mi dicono questi qua? e in più di solito non è che ho atteggiamenti proprio così legali ma perché comunque e poi comunque io progettando bene gli interventi so benissimo quali sono i modi più sicuri tipo io esco di mattina quando le mamme portano i bambini all'asilo o quando vanno a prenderli e sono le mamme e i cittadini a difendermi non ho bisogno della scorta se trovi la mamma incazzata è peggio di due della scorta ti ricordi tua madre che ti mandava la ciabatta qua dietro e subito ti metti tranquillo le mamme sono terribili perché gli stai facendo un piacere di togliere smasticato davanti all'asilo tipo poi si manca questo ma anche per loro ma far ridere nel senso che la scorta per uno che fa il murale farà ridere beh però ti hanno messo una bomba certo però io pastrado non li ho mai visti questi fenomeni van di notte a rovinare le robe vabbè non sono mai venuti da me hai capito sarebbe da no che li sfido però comunque c'è il confronto diretto bisogna essere uomini adulti bisogna essere bisogna avere un minimo di polso perché alle parole sono tutti bravi sono tutti eroi però se trovi cibo che disegna tu fascista da solo cosa fai? anche ieri che ero vicino alla loro sede sono passati un paio da soli sono stati muti muti hanno guardato hanno mandato foto che stavo facendo cose ma sono stati muti mamma mia senti hai sentito cambiando argomento ma spostandoci non tanto sul lato politico visto che ormai ma il bello di quello che faccio io non è politica l'antifascismo è apartitico è politico è proprio di tutti gli italiani e questo è il punto che vincerò sempre perché non sono di nessun partito non sono neanche di sinistra nel senso no probabilmente se fossi in un'altra città cancellerei altre cose capito magari c'è scritte violente di altre fazioni adesso ci sono i novax cancelli i novax per dire ho visto che poi sono gli stessi perché dici che sono gli stessi? perché hanno la stessa scrittura aprono gli stessi muri perché seguendo i murali sono rovinati ho io a casa loro c'è stato un minimo di reclutamento in più con i novax hanno fatto un po' di accoliti in più quelli di fortezza Europa hanno applicato forza nuova però insomma sono sapenti gli stessi coglioni senti di Yorit ne hai sentito parlare? ah certo con il selfie con Putin certo cosa ne pensi? lui può fare quello che vuole se c'è gente che si è fotografata con ogni editatore possibile immaginabile solo lui a fare i suoi è che comunque non c'è più dov'è? in che senso non c'è più? sui social dove è finito? sparito c'è solo sui muri tipo dov'è? su Telegram adesso ma perché è stato bannato dappertutto dici che è stato bannato? ma mi sa proprio di sì vuoi che faccia vuoi che voglio inunciare a una fanbase così? la sua fanbase era estremamente settoriale tutti lo difendevano sulla sua fanbase aveva dei follower che a spada tratta lo difendevano perciò non rinunci a un potere tale a un avamposto su una piattaforma che detesti se tu detesti Instagram o Metro in genere avendo una fanbase così potente un esercito così organizzato come la gente di centri sociali di sinistra di estrema sinistra non rinunci ad un avamposto del genere sei stato mandato via sarebbe da stupidi omestamente tecnicamente se uno dovrebbe pensare in maniera distaccata e logica in base a una pianificazione professionale della propria attività fai il superiore oh no io qua non ci sono più e dove vai a dire le tue robe perché comunque tanta gente lo seguiva molto conosciuta ma a prescindere dalla foto di Putin a prescindere perché sapeva che si sapeva benissimo con la ideologia di Orid non è che è la novità che si andava a fare la foto con Putin si c'è stato anche qualche murale che comunque faceva si intravedeva appunto la sua ideologia l'ultimo gli ultimi si si perché comunque quando disegni delle persone di cultura per esempio lui disegnava tutti questi vogli disegnava Dostoevsky Dostoevsky non puoi dire che è a favore delle politiche russe no beh certo perché cultura con l'amualino non è niente da dire ecco è tipo comunismo e stalinismo cioè nel senso c'è modo e modo di affacciarsi a questo tipo di ideologia se hai una fede se sei un artista non sei mica un politico perché sei obbligato ad avere un certo tono cioè io non è che li sto insultando cioè non sto insultando lo sto giudicando per la sua ideologia cioè se sei un artista puoi avere tutte le posizioni che vuoi e nessuna di queste sarà sbagliata per quanto mi riguarda ma tu credi che questa suo dire sì ma Putin è umano sia stato soltanto un modo per camuffare una un'esigenza sua per stare vicino a Putin oppure perché era un reale un suo reale pensiero secondo te tu come l'hai percepito questo suo a me non mi ha fregato un cazzo perché Yorit fa conto che mi conosce ma vi siete visti anche di persona no non c'è stato bisogno di vederci perché comunque quel livello è già stato capito fa conto che è andato a cercarsi su tutto il feed del mio Instagram che ho migliaia di foto è andato a cercarsi l'unica foto dove cancellavo sia la svastica che la falce martello e mi ha chiesto perché è cancellata la falce martello una persona del genere ma te l'hai chiesta privatamente o te l'hai chiesta pubblicamente ovviamente madonna allora se tu hai un ideologio del genere per me non c'è nessuna discussione finita qua punto non devo proprio parlare assolutamente con una persona che parte da questo presupposto qua perché comunque tutte le svastiche cancellate che ti sei visto prima dovevano convincerti sulla bontà del mio operato e se tu non ci arrivi e c'hai la tua fede politica la tua squadra di calcio c'hai la tua tega è giusto che tu te la tieni perciò di Iori tra me non me ne frega assolutamente un cazzo allora vogliamo rispondere vogliamo rispondere può andare da Putin può fare quello che vuole può andare anche in Corea del Nord per quanto mi riguarda che tanto è bellissimo quello che fa cioè nel senso sono apre stupende però sono cazzi suoi cioè è un artista nel senso fai non è mica un politico non è mica beh allora vogliamo l'occasione per rispondere pubblicamente in merito al perché Cibo ha coperto in quel caso sia la svastica che il perché il muro faceva schifo cioè era un purpurì di insulti dove c'era il cazzo la celtica la svastica la faccia e martello e questo tua mamma e il numero di telefono cioè pulito cancello se vuoi se vuoi rappresentare l'idea del comunismo puoi farlo ma non è quella la maniera come con gli ambientalisti puoi farlo ma non è quella la maniera cioè non è la falce e martello disegnata sul muro che mi convincerà del tuo operato oppure che ti renderà così comunista cioè impegnati un po' di più no? e poi faceva schifo il muro cioè nel senso cosa faccio lascio il cerchietto con la falce e martello se no i compagni si offende no certo beh beh è anche corrente comunque come pensiero io ti faccio una domanda che faccio sempre a tutti quanti io penso che l'arte sia aprilisticamente dal tipo di tecnica utilizzata qualcosa che deve comunicare perché se non comunica è decorativismo è solo estetica tu condividi questo pensiero certo vuoi i miei colleghi in città è decorativismo cose carine da vedere la signora dice oh che bei colori madonna che ha disegnato la madonna cioè allora fai sta roba qua e a posto sono pochi like ma facili pochi però perché la gente è stanca di queste cose il politico è felicissimo di queste cose di questo tipo di decorativismo tuttavia se non c'è messaggio non io penso che l'arte non c'è nessun senso di farlo una domanda così mi scrivono di dirti ma se non ci fossero più le sbastiche una cosa che è in realtà troppo un po' utopica però eh sì ecco che cosa faresti lavorerei per esempio visto che questa qua è tutto volontariato lavorerei di più ma cosa fai appunto io faccio murales di miei uguali tale e quale ma più belli per clienti però avrei magari più tempo per seguire delle esposizioni oppure avere dei clienti un po' più grandi che posso fare appunto più robe questa forma di artivismo mi porta via parecchio tempo io ho speranza che arrivi qualcuno che mi dia il cambio e così torno a lavorare no stai facendo un lavoro egregio ed enorme soprattutto è mirabile lo stai facendo praticamente da solo eh sì da solo senza che nessuno mi dia una mano perché dov'è la politica? l'amministrazione è nuova al centro-sinistra sì poi telecamere che si spengono eh io abito in Lupatotto che qua è proprio della Lega Fratelli d'Italia però per esempio in città che adesso è centro-sinistra io non ho visto che si sono affacciati a me con entusiasmo di proporre cose anzi io quando li informo praticamente non rispondono l'ampi non pervenuto in centri sociali non ci vado d'accordo perché gli cancello le falce martello a quanto ho detto Yorit e dopo c'è da dire che comunque bisogna avere un minimo di polso perché anche i miei colleghi per esempio hanno paura che dopo i fascisti li rovinino i murales e adesso io sono particolarmente motivato anche perché comunque indietro non si torna se dovessi smettere li perderei tutti se sapessero che io ho smesso li distruggerebbero tutti a distante il fatto che continuano a resistere è anche questa una forma di difesa ecco credo che siamo in orario se mi comunicano per la piccola sorpresina penso di sì penso abbiamo si mangia? no beh non proprio penso sì si sarà fatto abbiamo fatto penso un'ora quindi ho una cosa ho una sorpresa per te eccolo qua spero spero che ti piaccia non sembra che si mangia eh no non si mangia ah sembra ah ho già indovinato allora poi ando giusto sfila sono io oh figo grazie madonna perfetto c'è anche il neo il nei io faccio street art ottimo c'ho tutti c'ho la parete con tutti quella è la telecamera centrale ci siamo tutti e due sì sì e c'ho l'angolino anche dei vari tributi che mi hanno fatto e questo finirà in mezzo ai tributi dei fumetti che mi hanno fatto ah dai e dopo te lo faccio dai sì 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 che che praticamente per solidarietà altri colleghi mi hanno ottimo figo guarda lo mettiamo qua così rimane in vista fino alla fine dai dai firma dove è la tua firma eh prova a cercarla c'è il cappello c'è il cappello elegantissimo elegantissimo hai detto vabbè dai così almeno non è da sporcare il disegno no insomma sempre firmare sempre sempre firmare è importantissimo allora altre domande? altre domande beh in realtà abbiamo concluso di solito concludo sempre così allora sì ti sei evitato se vuoi se vuoi lasciare un messaggio per i ragazzi per quelli in esclusiva per Artabout o comunque per tutti quelli che ti seguono allora il messaggio è sempre quello alla fine che il singolo può fare la differenza io con pochi colori pochi con alcuni colori e tanta buona volontà alla fine sono riuscito a arginare perché non si risolve un problema che avrà una cera che era quello di centinaia di celtiche svastiche e ognuno con la propria arte può fare la differenza col proprio stile col proprio impegno perché comunque si può benissimo suonare farla mangiare per gli altri oppure sei bravo a guidare puoi guidare l'autopulanza e di conseguenza ognuno può restituire qualcosa alla comunità visto che tutti noi prendiamo molto forse troppo dall'ambiente la comunità e tutto soprattutto fate i buoni grazie cibo grazie allora che le amici si conclude così la nostra puntata e grazie soprattutto a cibo di essere stato qui su Artabout ciao a tutti ciao bene dai ed eccoci qui amici finalmente giunti al termine di questa puntata una puntata che spero tanto vi abbia intrattenuto e anche fatto scoprire delle cose nuove magari io per esempio devo confessarvi che non conoscevo per nulla tutti questi simboli fascisti e neonazisti e a dire la verità non immaginavo nemmeno potessero essere così tanti ed il fatto che bene sia poi anche una concentrazione così massiccia proprio a Verona terra in cui momentaneamente vivo devo dire che un pochino mi preoccupa spero questo video possa avervi aiutato anche un po' a identificare certi simboli e magari farvi rendere conto dei contesti sociali in cui siamo immersi senza magari rendercene nemmeno conto sperando ovviamente che almeno la vostra città non sia così fregna come quella di Verona sulla questione Yorit invece devo dire che mi piacerebbe tantissimo poter vedere un dibattito qui su Artabout proprio tra quest'ultimo e Cibo e se volete vederlo appunto anche voi passate magari questo video Yorit comunque anche in questa occasione ovviamente come in ogni puntata non è mancato il ritratto da me realizzato e donato poi all'ospite in questione il quale ha contraccambiato poi a propria volta donandomi una propria opera che potrete vedere come sempre nel dettaglio insieme all'opera da me realizzata nel mio profilo Instagram quindi mi raccomando correte a seguirmi anche lì ed anche per oggi qui dal vostro artista preferito nonché creatore di trip è tutto e alla prossima ciao ciao